Sì, sono Marco da Milano. Dica! Sì, volevo chiedere a un dottor Pregliasco. Eh? Sì, facciamola domanda. Sì, siccome mia moglie... se mi fa parlare. Allora, tre giorni dopo mia moglie che ha fatto il vaccino, vuol sapere cosa le è successo per le cazzate che dice? Mia moglie era completamente sana ed è morta dopo tre giorni che ha fatto il vaccino. Era completamente sana, ho tutti gli esami. Mi dica qualcosa, invece di dire cazzate, mi dica qualcosa. Ma dispera, non è cazzate che dice di solito. Mia moglie era completamente sana ed è morta dopo tre giorni che ha fatto il vaccino. Era completamente sana, ho tutti gli esami. Mi dica qualcosa, invece di dire cazzate, mi dica qualcosa. Ma dispera, non è cazzate che dice di solito. Mi scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi, porti pazienza. Io capisco questo momento di difficoltà, però mi ha messo giù.